Musica Proseguiamo nella nostra visita allo stand Mammoth Ispo Winter 2014. Uberto, cosa abbiamo qui? Abbiamo il top del completo da freeride, Aglieska Jacka e Aglieska Pants. Il nostro prodotto top da freeride con questa linea molto giovanile, quindi larga, eccetera, proprio per il freeride. Nella versione del pantalone Aglieska presentiamo il pantalone con l'imbrago, novità. Quindi abbiamo un pantalone molto tecnico da freeride che va a integrare l'utilizzo da freeride classico, quindi con un pantalone in gore, tre strati, gore pro, con la possibilità di avere integrato all'interno un imbrago. L'imbrago molto leggero, pensato proprio per l'utilizzo da freeride. L'imbrago che prende, diciamo, lo spunto dal nostro pantalone imbrago estivo. È stato inserito l'imbrago all'interno che può essere utilizzato oppure l'imbrago poi può scomparire e, diciamo, e avere un pantalone normale. Il pantalone poi ha questa gaita superiore con questa tasca compatibile per l'utilizzo dei nostri due apparecchi Arva, quindi il Pulse e l'Element. Una tasca con cerniera impermeabile per l'utilizzo, per mettere la mappa, eccetera. Due tasche normali sul davanti, una tasca posteriore. È molto interessante la protezione nella parte finale in dinema, che quindi ci garantisce da tagli, abrasioni, dallo scio, oppure per urti, con rocce, eccetera. Pantalone Gore Pro, come dicevo, tutto sotto il chilo perché siamo sui 900 grammi. Quello che riguarda la giacca, invece? Giacca anche questo, il top della nostra giacca. Anche qui sempre Gore e tre strati, Gore Pro tre strati. La giacca con questo taglio molto, quello in uso, diciamo, col freerai, con la possibilità di avere la ghetta interna, oppure staccando la ghetta interna della giacca, staccando anche questo pantalone, si può unire giacca e pantalone per avere un completo, con un comfort meraviglioso, e quindi anche che ci dà sicurezza, soprattutto perché ci sentiamo bene coperti, ben protetti e non abbiamo poi il fastidioso rientro dalla neve da sotto durante la neve profonda, eccetera, situazioni di neve profonda in cui possiamo andare a trovarsi.